Bene, bentornato Seba, la medaglia olimpica per quello che riguarda i nostri giocatori impegnati alle Olimpiadi. Partiamo da lì, prima di parlare di Perugia, di questo bellissimo sogno olimpico, per voi dell'Argentina una medaglia di grandissimo valore. Sì, come l'hai detto è veramente un sogno che ancora forse è difficile da credere, perché penso che tutti quanti la vogliamo e sogniamo con questa medaglia, qualsiasi atleti. Quindi penso che raggiungere un obiettivo del genere è stato per me particolarmente e per tutti i miei compagni una bella prova e una cosa che ci porteremo sempre dietro. Allora, non voglio sapere dove l'hai messa la medaglia, non lo diciamo a nessuno. Parliamo adesso di presente, sei tornato adesso a Perugia per l'inizio della riparazione, dopo qualche giorno di riposo. Tu sei già in forma perché hai giocato fino a 20 giorni fa, ma come stai? Bene, bene, sì, ho avuto un po' di tempo di stare con la famiglia, sono tornato in Argentina a salutare i miei genitori. Sono pronto sempre un po' con la testa qua, anche quando stavo in nazionale, sempre mi piaceva pensare di tornare qua e arrivare a questo momento. La preparazione che abbiamo, tanti ragazzi anche nuovi, nuovo allenatore, penso che ci sia tanta voglia di migliorare, di fare le cose bene e giuste. Quindi penso che adesso siamo tutti carichi. Senti, hai detto bene, allenatore nuovo, giocatori nuovi, anche parte dello staff è cambiata. Seba, difficile fare i pronostici, siamo solo all'inizio dell'anno, che stagione ti aspetti? Che stagione aspetta Perugia? Non lo so, come l'hai detto, è difficile parlare adesso, spero e auguro a tutti quanti noi che siano tante belle vittorie. Poi sappiamo anche gli altri che hanno fatto belle squadre, quindi andiamo tranquilli, secondo me anche umili con la testa qua in campo a lavorare, perché secondo me c'è tanta cosa da lavorare, quindi penso che dobbiamo partire da lì, dal lavoro, e una cosa che non può mancare mai è questo, il lavoro e la voglia di fare bene.